Il comune di Fano c'è e farà la sua parte, lo assicura l'assessore al welfare Dimitri Tinti che oggi interviene sulla chiusura del centro Alzheimer Margherita. Il comune, ricorda l'assessore, non ne ha la competenza che nel caso del Margherita aspetta il servizio sanitario della regione Marche. Nonostante questo, già da fine maggio ci siamo interessati alla vicenda, prosegue Tinti. Abbiamo coinvolto con diversi incontri tutti i gestori dei centri diurni, compresa la cooperativa Labirinto che opera nella struttura situata in zona aeroporto. Allo stesso tempo, assicura l'assessore, abbiamo parlato sia con la regione sia con l'area vasta. Il comune, anche ieri ci siamo sentiti col sindaco che ha fatto un appello, credo doveroso, alle istituzioni che sono competenti, in particolar modo alla regione, di poter modificare le normative che oggi sono vigenti e che riconoscono, pur avendo riconosciuto il ristoro per i tre mesi di chiusura e quindi per tutti i centri diurni, qualora riaprono, la regione riconosce la quota sanitaria al 100% del primo mese e al 70% per gli altri due mesi di chiusura, così come noi abbiamo fatto, tra l'altro, per la nostra quota, la quota sociale per i centri diurni per disabili. Oltre questo, alla regione si chiede di poter riconoscere, legandola chiaramente a una misura straordinaria, quindi occorre una delibera di giunta, che possa riconoscere la quota piena dei convenzionamenti per quel centro, a prescindere dal numero con cui ripartono. Il centro, infatti, non potrà ripartire a pieno regime a causa delle norme anticontagio e al momento non viene riaperto perché senza un supporto economico la labirinto non riuscirebbe a far fronte a tutti i costi e alle spese straordinarie come quelle per la sanificazione. Il rischio sarebbe quello di dover aumentare in modo sostanzioso le rette pagate dalle famiglie, cosa che si vuole evitare soprattutto in un momento di emergenza economica provocato dalla pandemia. Inoltre, la cooperativa che gestisce il centro dovrebbe assumere più personale. Le normative dicono che i rapporti operatore-utenti cambiano. Prima erano 1 a 4, 1 a 5, invece oggi diventano 1 a 1 o 1 a 2. Chiaramente capite che i costi aumentano. Dall'altra, quindi questa è la richiesta che si fa alla regione, però noi come comune, ieri abbiamo fatto una valutazione, dopo vari incontri, l'ultimo ieri proprio con la cooperativa labirinto, abbiamo valutato l'ipotesi concreta di poter anche noi contribuire pur non avendone competenza. Ma lì comunque è un centro nel quale noi spesso non solo andiamo perché c'è un rapporto di collaborazione, ma c'è anche un centro di auto mutuo aiuto con le famiglie che il comune supporta, anche con l'Auser, con l'Aima. Quindi è doveroso, credo, che come comune ce ne facciamo anche un po' carico, legandola chiaramente a una misura straordinaria. Il comune in queste ore sta valutando l'entità del contributo. Credo sia utile, necessario e opportuno che il comune di Fano, poi magari anche interessando anche l'ambito, possa dare l'esempio. E quindi sulla base di questo, aspettando comunque anche le decisioni della regione, il comune c'è, è disponibile e stiamo valutando appunto di contribuire.